Le statistiche sono cruciali, sono la bussola per orientarsi in un mondo che sta cambiando a una rapidità supersonica e se questo è vero per ogni cittadino che vuole essere informato e quindi essere un buon cittadino per un imprenditore è doppiamente vero, perché l'imprenditore deve compiere scelte in condizioni di grande incertezza e questo è un momento di grandissima incertezza. Purtroppo le statistiche di cui abbiamo bisogno sono quelle che troveremmo in un famoso film Accadde domani, cioè in un certo senso servirebbero ancora di più i numeri del futuro, su quale oggi possiamo fare al più delle congetture ben informate essendo saltati molti degli schemi dei trend del passato anche recenti. Per essere ben informati comunque servono ottime statistiche, anche se queste descrivono il passato prossimo o al più il presente. Noi oggi viviamo nell'era dell'informazione a getto continuo. Le nuove tecnologie informatiche di comunicazione hanno aumentato esponenzialmente la quantità e la diffusione in tempo reale di dati e cifre e hanno accresciuto l'accesso alle notizie e al sapere. Internet è una enciclopedia a portata di un click e a disposizione di chiunque. Ma proprio quest'offerta straripante provoca in alcuni casi stordimento e confusione e si presta anche a letture variegate, spesso di formi se non contrastanti. E qui proprio la statistica ufficiale, proprio perché non è di parte, è un bene comune, gioca un ruolo assolutamente fondamentale. I suoi dati sono la base su cui confrontarci, su cui discutere in modo costruttivo per il futuro del Paese. Per questo la statistica ufficiale deve essere credibile e tesa sempre a migliorare sia la qualità, sia la quantità, sia l'accessibilità delle informazioni. I cambiamenti impongono sfide anche alla statistica, che si deve attrezzare ed avere una maggiore velocità di risposta per star dietro ai mutamenti di contesto e a una disaggregazione più fine per cogliere ciò che realmente sta accadendo sotto la superficie delle grandi variabili. Perciò penso che alla statistica vadano destinate grande attenzione e risorse adeguate. Le imprese sono state sempre attenti a collaborare e a fornire informazioni, sobbarcandosi notevoli costi. In epoca di budget sempre più stretti, questi costi devono avere un più alto ritorno informativo.